La mamma di Chiara Ferragni in marina è ancora a Dubai in vacanza, questa volta ci fa vedere il deserto e lei sempre in splendida forma. La mamma di Chiara e la mamma di Chiara. and crisp so this bread consists only out of three ingredients salt with flour and bread so they only bake it on one side and the extra dough they take off will feed this to the animals so it doesn't get too late marina marina non dimostra la sua età e sembra più giovane delle figlie addirittura